Buona giornata amici, sono le 7 puntuali, questa è la rassegna stampa di Fano TV, leggeremo insieme i giornali, resto del Carlino, Corriere Adriatico, pagine locali con qualche puntata anche in altre località delle Marche e intanto procediamo come sempre con l'almanacco del giorno e vediamo il santo che si festeggia nella giornata di oggi. Eccolo, San Vincenzo Ferreri, un santo molto noto, un santo spagnolo, visse nel XIV secolo, nacque a Valenza in Spagna, Domenicano, un grande, un grande predicatore, evangelizzatore in diversi paesi, Spagna, Francia, Italia, Inghilterra, Germania, propagandò anzi la parola evangelica con un grande fervore in tanti paesi europei. Era un uomo di grande zelo, San Vincenzo, ma anche di pari virtù, era un uomo che veniva contestato, veniva contestato nel senso che veniva così preso tra di loro da tanti tanti vescovi i quali si giovavano della sua predicazione, però in realtà lui si considerava un povero religioso, digiunava tutti i giorni eccetto la domenica e vegliava buona parte della notte in orazione. Questo è San Vincenzo Ferreri. Ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo. Sulle Marche un cielo prettamente sereno oppure appena appena velato da nubi alte. I valori massimi delle temperature 18-22 gradi, la minima 12 gradi. I venti spirano moderati da sud-est sulle coste da ovest su dovest nell'entroterra. Il mare è leggermente mosso e il sole è sorto alle 6.41 e tramonterà alle 19.38. Le ore di luce si sono allungate grazie alla introduzione dell'ora legale. Apriamo i giornali, quindi diamo un'occhiata a quello che ci riservano i quotidiani questa mattina a partire dal resto del Carlino sulla pagina di Fano dove vediamo che l'apertura è dedicata all'inaugurazione di un macchinario all'avanguardia che è stato attivato all'ospedale Santa Croce. È in funzione dal mese di dicembre ma ieri c'è stata l'inaugurazione da parte di tante tante autorità dalla regione giù a scendere fino al comune. Ed eccolo il titolo più comoda e veloce è la nuova risonanza magnetica. Il sindaco dice tutto vero, io l'ho già testata, quindi ha fatto anche lui degli esami. È stato presentato il macchinario, costa oltre 2 milioni, adesso le cifre sono un po' ballerine. L'assessore regionale alla sanità Salta Martini garantirà un aumento delle prestazioni. Insomma le cifre esatte che l'assessore ha rivelato sono 700 mila euro il macchinario, altre 700 mila euro per quanto riguarda tutti i lavori che si sono dovuti realizzare per installare il macchinario nelle Santa Croce. Comunque un macchinario all'avanguardia, un macchinario che consentirà, con grazie alla sua alta tecnologia, di avere diagnosi più sicure, più certe, più di qualità, così possiamo dire. E poi c'è anche la possibilità per i degenti di abbreviare i tempi degli esami. C'è per esempio chi soffre a stare chiuso nella risonanza per tanto tempo. Ebbene la nuova risonanza è molto celere e quindi consente oltre a fornire immagini di qualità superiore, che rende molto più facile il compito dei medici, anche un certo comfort all'interno del meccanismo per i pazienti. E poi ovviamente la presenza dell'assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, insieme alla direttrice dell'azienda sanitaria territoriale, Nadia Storti. Poi c'erano anche altri assessori della giunta, c'era Guzzi, c'era Baldelli, insomma c'erano tanti tanti esponenti politici. Siamo poi anche in periodo di elezioni, quindi la presenza era scontata. Ma c'erano soprattutto anche i medici e c'era anche il primario del reparto di radiologia dell'ospedale Santa Croce che ha messo in evidenza come tutto l'apparato di personale che lavora in reparto è un organico non solo efficiente dal punto di vista tecnico, ma lo è anche soprattutto dal punto di vista sanitario, dal punto di vista medico. Ebbene questa è una bella conquista, vediamo anche il titolo che appare sul Corriere Adriatico con la nuova risonanza magnetica, intitola il giornale Migliore Qualità e Tempi Abbreviati. Inaugurata ieri al Santa Croce, il direttore dell'unità operativa Rebonato, Alessandro Rebonato, Alberto Rebonato, dice un salto in avanti e questo è quello che farà appunto l'ospedale grazie a questo macchinario. Poi ci sono anche tutte le altre prospettive in corso, in fieri, come la nuova palazzina delle emergenze, l'ospice dell'ospedaletto per i bambini, insomma tutte cose che ancora però devono avvenire. Vediamo una bella pubblicazione che è stata presentata nei giorni scorsi in Comune, si tratta di un libro che ripercorre i rapporti con la città gemellata di Rastat. È il più vecchio gemellaggio che l'amministrazione comunale di Fano ha contratto, Rastat, un'amicizia lunga, 40 anni, intitola benissimo il resto del Carlino. Si tratta di un libro scritto da Silvano Clapis e da Marco Giovenco e ripercorre la bella storia del gemellaggio, 40 anni di storia con la città tedesca del Baden-Württemberg, celebrati con il volume Fano-Rastat, legami di amicizia. Ebbene si ripercorrono tutti i rapporti sociali, i rapporti sportivi, i rapporti culturali che si sono avuti con questa città, tanto che ancora oggi questo gemellaggio è vivo ed è forse l'unico che ha funzionato veramente. Poi ci sono anche gli altri con cui ci sono rapporti ma sono un po' più saltuari. Ed ora vediamo un'immagine di una Fano che tramonta ed è quella dell'ex Carducci, dell'ex scuola che è stata abbattuta. Vediamo qui il cumulo di macerie che dovrà essere rimosso, ci vorrà un mese per rimuoverlo e quindi i lavori di ricostruzione del nuovo Carducci in teoria sono già iniziati con la demolizione del fabbricato vecchio e ora si dovrà ricostruire quello nuovo, però ci vorrà ancora del tempo. Giù l'ex Carducci, nuova scuola entro il 2026, intitola il resto del Carlino, iniziata la demolizione dell'edificio dichiarato inagibile dal 2019. Ci sono stati diversi anni perché tutto questo cominciasse, ci è voluto del tempo per la ricerca dei finanziamenti. C'è stato un blocco di un contributo che doveva essere dato anche al comune di Fano, ma il comune di Fano, scusate, l'edificio di Fano che però insomma era rimasto un po' indietro nella classifica degli interventi che erano stati finanziati. E ieri c'è stata una conferenza stampa del centrodestra in merito all'adozione del piano regolatore generale che verrà fatta dall'amministrazione comunale nel Consiglio comunale di lunedì prossimo. PRG, adozione impossibile, vero obiettivo le primarie. Che cosa è accaduto? È accaduto che proprio recentemente c'è stata la Commissione, in preparazione appunto del Consiglio di lunedì, la Commissione urbanistica che ha così valutato tutte le contraddeduzioni alle osservazioni che i cittadini hanno presentato allo strumento urbanistico. Ebbene, ci sono molte, molte critiche che il centrodestra, in modo particolare la Lega con il suo candidato sindaco, ma è il candidato sindaco di tutto il centrodestra, Luca Serpilippi, che appunto ha convocato questa conferenza nella giornata di ieri. Secondo il centrodestra si sono fatte delle preferenze nel approvare o meno certe osservazioni. Certe aree edilizie sono state così declassate in maniera impropria, altre invece che erano verdi sono diventate residenziali. Ci sono state poi delle provvedimenti che sono stati contestati, come l'estensione della zona silenzio, questo l'aveva detto Gianluca Ilari, capogruppo della Lega, l'estensione della zona silenzio da Montegiove a Centinarola e questo tira in ballo anche il convento dei Trappisti, che è stato oggetto di una variante specifica, che è stata poi anche coinvolta ieri nel Consiglio Comunale nella discussione delle osservazioni. Insomma, un piano regolatore che non doveva essere approvato proprio alla fine di questa legislatura e soprattutto in un periodo elettorale come questo. E queste sono state le rimostranze del centrodestra appunto in merito a questo provvedimento. Corsa a sindaco, ora siamo nell'entroterra, vediamo San Costanzo. Corsa a sindaco, Stefanelli ritira la sua candidatura. Ebbene, aveva accettato Stefanelli la candidatura a sindaco, era un ritorno in suo alla politica, però all'improvviso ha deciso di lasciare, di revocare quanto aveva deciso. Si tratta di motivi strettamente personali, ha dichiarato, non c'entrano in alcun modo, considerazioni di tipo politico riguardanti la composizione della lista che si stava formando. Stefanelli ha garantito sempre il suo appoggio al centro-sinistra, però insomma non ha ritirato ancora i veri motivi, voglio dire ancora non si conoscono, sono motivi personali e difendiamo la sua privacy per carità. A Mondavio invece si pone l'obiettivo della festa cinghiale, uno degli obiettivi prioritari della Proloco. La Proloco riparte da Galassi, obiettivo la caccia al cinghiale. Nuovo direttivo è presidente della Proloco a Mondavio, che esordiscono fornendo un'ottima notizia. La rievocazione della storica caccia al cinghiale, che forse è l'appuntamento più turisticamente appetibile di Mondavio con il banchetto rinascimentale, tutte le rappresentazioni, l'incendio della Rocca e via dicendo, che dopo l'annullamento per regioni economiche del 2023 sembrava in forte dubbio, invece si farà. Nel 2024 la caccia al cinghiale si farà e tutti coloro che vorranno parteciparvi faranno un tuffo veramente nel Medioevo, come un ritorno indietro in un'epoca lontana, fatta di colori, di costumi, di tradizioni, anche di gusti e soprattutto di sapori. A Urbino. Urbino si parla di politica, vediamo qua due formazioni politiche. Nella prima pagina si parla di Urbino, città ideale, la quale ha presentata i suoi candidati, tra noi anche cittadini nati all'estero. Ebbene Urbino, città ideale, fa parte dell'attuale maggioranza. coordinatore Elino Michelli. Si tratta di 14 donne e 11 uomini, molti i volti giovani, tra cui alcuni da non molto maggiorenni. Visibilmente emozionati, nella fase della presentazione hanno così presentato i loro ideali, le loro ragioni per cui si buttano nella politica. Più di qualche persona è di origine non urbinate e persino non italiane, quindi proprio un segno di efficace e reale integrazione. E qua invece abbiamo Urbino Benecomune. Ebbene Urbino Benecomune è a sostegno di Federico Scaramucci. Presentata la lista di Vincenzo Pompiglio, ho raccolto le istanze della città, ha dichiarato. Contestiamo i metodi di chi ha governato e proponiamo dei contenuti. Ovviamente è una lista che si contrappone a Gambini. Le ultime scelte sono autoreferenziali, ha detto Pompiglio, riferendosi all'attuale giunta. Le ultime scelte sono autoreferenziali, senza coinvolgimento. È accaduto per esempio sia con il biodigestore che con il progetto della discarica di riceci. Insomma sono due problemi che ancora rimangono sul tappeto e devono essere risolti. A Fossombrone, Fratelli d'Italia replica tutte le dichiarazioni che ha fatto il locale comitato per quanto riguarda l'ospedale, asserendo che è stato Acquaroli a salvare l'ospedale di Fossombrone. Il partito replica i comitati, sono gli atti che parlano e i soldi a bilancio. Sollevato il problema dei toni troppo polemici, serve rispetto anche nel linguaggio. E questo starà bene in tutte le situazioni e in tutte le località. Ed ora diamo un'occhiata invece alle pagine pesaresi, pubblicate dal resto del Carlino, dove si parla, così come si parla anche sul Corriere Adriatico, dei mosaici del Duomo. Questo bellissimo tappeto musivo di cui parte e risale al IV secolo e poi ancora al VI secolo. ci sono appunto due strati, uno sovrapposto all'altro, che ora vengono messi in visibilità con uno spazio maggiore. Si aumenta appunto lo spazio visibile. Il Duomo chiuderà per i lavori per fare questo intervento e i lavori cominceranno il 29 di questo mese e quindi la cattedrale chiude al culto almeno per due settimane. Dal 29 il via dell'intervento che sarà realizzato dalla Fondazione Scavolini con la Renco. Alla fine ci saranno 42 metri quadrati in più di visibilità per ammirare i tesori cittadini. E questo tesoro è veramente unico, diciamo così, in tutta Italia. A dire la verità si contende un po' il primato con i mosaici di Aquileia, però insomma siamo veramente lì e siamo veramente alla presenza di un patrimonio culturale di grande interesse e di grande valore. Il 29 di questo mese chiude al culto la cattedrale, partiranno i lavori per realizzare le nuove finestre sui mosaici. Il tempo stimato per riaprire la chiesa viene ipotizzato in un paio di settimane sperando che non subentrino però problemi in corso dei lavori. E qui abbiamo invece un episodio di cronaca, c'è stato un professore che avrebbe molestato alcune allieve, dirigente della Benelli, Anna Maria Marinai lo ha destinato a classi diverse. E c'è qui una polemica, insomma questo professore continua ad insegnare nella stessa scuola anche se viene stato assegnato a classi diverse, però insomma sembra che non ci sia possibilità di incontrare di nuovo le ragazze che lo hanno denunciato e tutto questo ancora deve evolversi. E poi vediamo invece come la questione delle antenne continui a tenere banco sia a Pesaro che a Fano, poi anche in altre località. Sono i ripetitori 5G. Tattabrighe insorge e si pone sul piede di guerra. Comune e silente decidono tutto i gestori. Hanno dichiarato il comitato insorge. Non si risolve con una assemblea online. comunque il problema non è facile a risolversi perché una normativa a carattere nazionale assegna ai gestori la possibilità di coprire tutte le zone d'ombra e poi la localizzazione delle antenne deve soprattutto rispondere a questo obiettivo primario e poi insomma bisogna cercare di giostrare con le richieste dei residenti, ma questo non è sempre facile. A Gentiloni. Gentiloni è venuto a Pesaro. Il commissario europeo fa sold out. All'Europa serve un'economia più forte. Ricci è l'esercito unico. Allo sfera al completo in piazza per vedere il commissario europeo. Bello scenario quello dell'allosfera. Il sindaco delle elezioni, capilista alla segretaria Schlein e il presidente Bonaccini. Dunque allo sfera al completo con tanta gente, tanta gente anche in piedi per l'arrivo a Pesaro di Paolo Gentiloni ospite ieri pomeriggio della rassegna Incontri Capitali. Il commissario europeo per gli affari economici è intervenuto sul tema l'Europa nel mondo che cambia. Un tema molto molto complesso e molto interessante. Ed ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico. Abbiamo visto l'apertura. Si parla della nuova risonanza magnetica, migliore qualità e tempi abbreviati. Ma restando sempre nel campo della sanità, notiamo che oggi festeggia un compleanno il centro Margherita, il centro diurno per l'Alzheimer. Dieci anni di attività. Dieci anni di attività che si pongono in una situazione ancora di grande esigenza di questi centri di assistenza per i malati di Alzheimer. Una malattia questa della situazione degenerativa degli anziani che sta dilagando sempre più. È molto peso dell'assistenza grava, soprattutto sulle famiglie. Occorre dunque un centro che possa assistere gli ammalati anche di notte. Insomma, un centro che possa così dare un'assistenza maggiore. Un centro diurno attualmente che si occupa dell'Alzheimer è importante, però insomma ha appena 40 posti ed è una goccia in una marea di necessità, in un mare, non in una marea, in un mare di necessità che ancora oggi non viene soddisfatto. E quindi c'è anche un impegno della Fondazione Carifano di realizzare un qualcosa di più, un centro residenziale completo che possa un pochino sollevare le famiglie dal peso dell'assistenza. Vediamo ancora altre notizie. Anche il Corriere si occupa della conferenza stampa convocata dal centrodestra sul PRG. PRG in consiglio, blizze di fine mandato, favoritismi per guadagnare consensi. Così ha dichiarato appunto Lucas Filippi. Una forzatura al di fuori di ogni correttezza istituzionale. Un blizze di fine mandato ha dichiarato. E qui vediamo invece un problema ricorrente che si ripropone un po' ogni tanto. La foce del torrente Arzilla ostruita dal tappo di sabbia. L'acqua ristagna sotto il ponte ferroviario. I residenti chiedono interventi rapidi. È un problema, dicevo, che si ripete ogni tanto se non si fanno degli interventi che possono risolvere completamente la situazione. Un tappo di sabbia e ghiaia ostruisce la foce del torrente Arzilla tra l'omonimo arenile e la spiaggia del Lido. Un fenomeno che si sta ripresentando già da alcuni anni e che preoccupa sia gli operatori balneari sia gli abitanti del quartiere retrostante. Insomma anche questo tappo poi può gonfiare la piena del fiume quando questa a monte arriva impetuosa. e non trovando sfogo verso la foce del mare appunto di lava nelle parti laterali. Ed ora passiamo a Marotta. A Marotta finalmente si inaugura la grande rotatoria posta all'incrocio tra la Statale 16 e la Pergolese. Rotatoria al taglio del nastro, polemiche però sulla segnaletica. Domani l'inaugurazione a non tutti piace, l'insegna Marotta-Mondolfo. E qui ci sono un po' di maretta, c'è un po' di maretta e di proteste. Comunque questa è un'opera a lungo attesa dalla cittadinanza, come ha ricordato il primo cittadino Nicola Barbieri in più occasioni e che ha notevolmente ridotto le code in entrata e in uscita dalla cittadina balneare in quanto la viabilità prima era regolata con un semaforo. E vediamo anche la pagina di Senigallia. Curava la cervicale con carezze proibite, abusava di me un massaggiatore punito e ci risiamo, ci risiamo perché ogni tanto questi massaggiatori oltre a fare dei massaggi salutari fanno qualcosa di più. Palpeggiamenti al seno e nelle parti intime di una 35enne ebbene l'uomo è stato condannato a un anno e a otto mesi. E questo per quanto riguarda Senigallia. Vediamo anche la pagina di Pesaro sul Corriere Adriatico. Un mese di restyling in Duomo, più luce e visibilità ai mosaici. Entro la fine di maggio previsti altri 42 metri quadrati di finestre e una nuova illuminazione per dare maggiore visibilità e colore appunto a questo bene storico. La cattedrale è chiusa per tutto il tempo dell'intervento. la fondazione Scavolini, la nostra festa per i 40 anni. È un nuovo finanziamento che la fondazione fa per Pesaro e poi oggi, anzi quest'anno è Pesaro qualcosa di più. È proprio la capitale nazionale della cultura. Si parla anche del museo delle moto. La pescheria darà la linea, sarà la fondazione a occuparsi di allestimenti e di progettazioni. Quindi Pesaro a tante tante opportunità, alla musica, alle moto, appunto ai mosaici. È anche una città romana con una domus in via dell'abbondanza molto molto frequentata. Semminò il panico all'Elvezia, arriva la condanna, un anno e undici mesi al 23enne che si trova già in carcere per i reati legati allo spaccio di droga. E concludiamo la nostra rassegna stampa con un articolo di cronaca. Colta da malore, muore in cella, una donna poi salvata dal suicidio. Alta tensione nel carcere di Villa Fastigi per il sovraffollamento. Ed è una situazione questa che si replica un po' in tutte le carceri italiane, ma soprattutto la promiscuità, il sovraffollamento è un problema che deve essere risolto. E con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa. Come sempre vi do appuntamento a domani, sempre puntuali, alle 7. E siamo nella prossimità delle elezioni domenica prossima per le primarie del centro-sinistra che daranno ancora vivacità a questa domenica di festa. Grazie per l'ascolto e a risentirci.